Secondo alcuni siti web, Aurora Ramazzotti nasce a Milano il 5 dicembre del 1996 da una coppia molto conosciuta, quella formata dalla conduttrice di origini svizzere Michelle Unzinker e dal cantante italiano Eros Ramazzotti. Aurora cresce a Milano e studia all'International European School, conseguendo il diploma nel 2015. L'infanzia della ragazza è tutto sommato serena, ma purtroppo nel 2002 assiste al divorzio dei genitori. Entrambi si risposano. Michelle con l'imprenditore Tommaso Trossardi, mentre Eros con la modella Marica Pellegrinelli, matrimonio che di recente è arrivato al Capolinea ed è stato avvistato con Marta De Logu. Dal nuovo matrimonio della madre sono nate le sorelle di Aurora, Sole e Celeste, mentre dal matrimonio del padre sono nati i fratelli Maria e Gabriel Tullio. La battaglia che la giovane Ramazzotti avrebbe preso a cuore concerne proprio la nuova tendenza, che, in fatto di beauty, sta tornando prepotentemente di moda. Quella delle sopracciglia sottilissime alla maniera di Angelina Sully. Aurora, che in passato ha tentato di eguagliare il modello rappresentato dalla celebre attrice, ad oggi sembra avere un'opinione completamente diversa a riguardo. Non fatelo ha consigliato la figlia di Michelle alle sue fan? Non ammettendo alcuna replica questa moda all'epoca mi aveva causato danni irrevocabili. Ho ancora dei buchi di sopracciglia che non crescono più perché a 13 anni facevo la ceretta. Un appello più che caloroso, quello lanciato da Aurora, che ha così cercato di calamitare l'attenzione delle sue ammiratrici. La moda delle sopracciglia sottili, a detta della conduttrice, sarebbe una tendenza da cui restare categoricamente alla larga.